Musica Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Questa settimana ci occupiamo di educazione, di scuola, di valori perché nei giorni scorsi si è svolta la marcia non competitiva, ormai tradizionale l'andem al dom delle scuole paritarie cattoliche della diocesi di Milano moltissimi coloro che hanno partecipato, molto più delle 30.000 persone previste che hanno invaso pacificamente le vie di Milano da Porta Venezia fino al Duomo dove il cardinale Tettamanzi ha concluso appunto l'andem, come si dice normalmente. Sicuramente. Ecco noi quindi per parlare di questo Stefano Portioli che è il presidente dell'Agec, l'associazione dei genitori delle scuole cattoliche. Buongiorno. Buongiorno, sì. Ecco, inizio proprio chiedendole questa cosa. Facciamo un po' di chiarezza. Si dice sempre scuole cattoliche e scuole private. La scuola paritaria è una scuola pubblica. La scuola paritaria è pubblica perché svolge un servizio pubblico e un servizio pubblico che è stato riconosciuto anche dalla legge dello Stato, la 62 del 2000, che ha creato proprio le scuole paritarie cattoliche. Ecco, basta dire che la scuola paritaria Lombarda vede appunto in regione il 70% delle scuole cattoliche. Ma detto questo, entriamo proprio nel merito. Si intitolava l'andem al dom di quest'anno Famiglia e scuola cattolica per costruire la società. Stiamo intanto vedendo le immagini della marcia. E io direi anche costruiscono la società. Possiamo darlo come dato acquisito, assodato? Possiamo darlo come dato assodato per chi ci sta. Dobbiamo darlo invece come una desiderata perché comunque la scuola cattolica offre alle famiglie la possibilità di triangolare rispetto ai figli, rispetto a tutto quello che è il panorama della problematica educativa. Le famiglie si rivolgono alla scuola cattolica perché il proprio compito educativo possa proseguire anche nel momento dell'istruzione. Dopodiché la scuola cattolica offre alle famiglie anche una formazione. Questo deriva proprio dall'essere scuola cattolica e quindi dall'avere un'esperienza nel settore dell'educazione che a volte è esperienza decennale se non di molto più tempo. Ecco, a questo proposito, la scuola paritaria cattolica e la società. Il cardinale Tettamanzi, lo abbiamo detto concludendo l'andema al Domi in Piazza del Duomo, ha proprio affrontato anche questo tema specifico con riferimento alle istituzioni. Vogliamo ascoltare un breve stralcio del suo intervento finale? Se noi siamo importanti, necessari, indispensabili per la società, anche la società dovrebbe riconoscere il nostro servizio pubblico. Allora io ancora una volta ripeto quello che ho già detto in altre occasioni, ci sono delle condizioni necessarie per poter vivere in pienezza il nostro servizio educativo. Il cardinale è stato chiaro, ma le istituzioni rispondono? Le istituzioni non rispondono completamente, nel senso che se andiamo ad analizzare quelli che sono i costi che lo Stato supporta per un ragazzo che frequenta la scuola statale, esattamente non sono questi i costi che lo Stato supporta per un ragazzo e per le famiglie che scelgono una scuola paritaria cattolica. C'è una grande differenza, c'è una grande speriquazione contro le famiglie che fanno una scelta comunque educativa di valore e per cui lo Stato da questo punto di vista non riconosce questo valore. Si dice che lo Stato non deve spendere per le scuole private, cattoliche, chiamiamole anche noi così, anche se non è privata, è pubblica, lo ribadisco, ma è vero che lo Stato risparmia 6.900 euro ad alunno? Che cosa significa? Lo Stato risparmia 6.900 euro ad alunno, che vuol dire che ogni anno risparmia qualcosa come 7 miliardi di euro, quindi metà manovra finanziaria sostanzialmente e il risparmio significa che non spende quei soldi per offrire il servizio di istruzione e formazione ai ragazzi che vanno alle scuole paritarie cattoliche. Quei costi sono sostenuti interamente dalle famiglie. E nonostante la crisi in atto è interessante notare che la scuola paritaria cattolica cresce però anche in questo momento, su base regionale c'è un aumento del 3,15%. Sì, i motivi sono sostanzialmente due. Il primo è che quando ci sono dei momenti di crisi le famiglie scelgono per un valore e quindi investono tra i valori sull'educazione dei figli, perché lo concepiscono come una modalità per un futuro migliore. E l'altro motivo che abbiamo in regione Lombardia è la dote scuola, che sicuramente in questi anni ha sostenuto la possibilità di scelta. Che cos'è questo? Vogliamo spiegarlo? La dote scuola è un contributo che la regione offre per ogni ragazzo, fino al 25% della retta e fino a circa 1.050 euro, proprio come contributo ai costi sostenuti dalle famiglie. Io vorrei, per quanto riguarda la città di Milano, dare alcuni dati. Per l'anno 2007-2008 vi era una popolazione di alunni pari a 54.844 allievi che frequentano la scuola paritaria cattolica. Oggi, nel 2009-2010, siamo a 56.498. L'aumento solo in città è del 3,02%. Quindi, un dato molto significativo, specie in un'area metropolitana? Sì, il dato è molto significativo, anche se paragonato rispetto alla mentalità dominante che cerca appunto di annoverare le scuole cattoliche paritarie tra le scuole private, quindi tra enti che non hanno nessuna dignità di tipo pubblico. Invece, evidentemente, il passaparola tra le famiglie funziona, funziona molto bene perché non c'è miglior marketing che si possa fare di uno che dice guarda, mio figlio lì si trova molto bene, è molto contento di andare a scuola, manda lì tuo figlio che vedrai andare bene anche lui. E allora ascoltiamo ancora l'Arcivescovo, sempre nel suo intervento all'Andem al Dom. Che cosa ha detto, partendo da un passo evangelico, ma rivolgendosi chiaramente alle istituzioni ancora? Mi viene da dire con la parola del Vangelo, bussate, 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 e vi sarà aperto, sì qualche piccola apertura, ma io faccio l'augurio e la richiesta ancora una volta che non ci sia più bisogno di bussare, perché le stesse istituzioni possono accorgersi in maniera chiara e forte che la scuola cattolica, la scuola pubblica, la scuola pubblica paritaria e al servizio reale, concreto, secondo di questa nostra società. C'è ancora bisogno di bussare tanto? C'è bisogno di bussare tanto perché sembra che le istituzioni statali siano miopi rispetto al tema appunto della libertà di educazione. Sembra che in questo paese debbano essere garantite tante libertà che francamente sarebbe meglio tenere da parte, la libertà di aborto per esempio è una di queste, ma invece la libertà di educazione è accantonata. Di fatto viviamo una realtà che è molto individualista, la scuola cattolica invece insegna a stare insieme e non vorremmo che fosse proprio anche questo uno dei motivi per cui le scuole paritarie e cattoliche vengono lasciate da parte. E allora ascoltiamo questa volta un papà che dice noi non chiediamo niente, vogliamo giustizia. Noi chiediamo che ci sia pari dignità, che ci sia la possibilità di scegliere liberamente valorizzando la specificità della scuola paritaria. E anche che ci sia un rispetto delle regole, in questi anni tantissime promesse, poi si fa fatica a mantenerle. È uno dei motivi di questa manifestazione credo, quindi alla base della partecipazione. Una manifestazione che abbiamo detto ha avuto un grandissimo successo, quest'anno la 28esima edizione dell'Andem al Dome. È d'accordo con questo papà? Il tema era talmente centrale che ha spinto molti a venire dalla diocesi intera? Il tema è stato veramente azzeccato, specialmente l'aspetto proprio dell'insieme. Famiglia e scuola insieme è stato sicuramente quello che ha colpito tutti e infatti molti manifesti riportavano questo slogan, lo ridisegnavano, ma proprio puntavano sul insieme. Ecco, oggi insieme facciamo crescere la società, insieme vogliamo un'Italia migliore. Brevemente per concludere, i dati abbiamo detto sono positivi, di crescita, di aumento, ma se lei dovesse dire al di là dell'aspetto quantitativo, l'aspetto qualitativo che la convince sempre di più? L'aspetto qualitativo è importantissimo. Si dice che le scuole private sono scuole che fanno andare avanti i ragazzi a tutti i costi, non è assolutamente vero. Le scuole paritarie e cattoliche sono scuole molto serie, sono scuole che portano avanti dei programmi in modo rigoroso, gli stessi delle scuole statali, con insegnanti che però guardano i ragazzi secondo le potenzialità che ognuno di loro singolarmente riesce ad esprimere. Da questo punto di vista sono scuole che sanno accogliere anche chi non ha le capacità per emergere in modo assoluto. Tutti devono poter andare avanti, però a tutti è chiesto di dare il 101%. Quindi possiamo dire in conclusione scuola paritaria cattolica, scuola pubblica, che promuove i valori, la solidarietà, la libertà, il servizio per la società, tutti insieme. Tutti insieme. Grazie a Stefano Portioli, che è presidente provinciale dell'Ages, che lo ricordo, Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche, che è stato con noi. Veramente grazie anche per i dati che ci ha portato. Grazie a voi. E ora cambiamo decisamente argomento. L'attualità in questi giorni, il Cardinale Tettamanzi si è recato in Francia, Pellegrino, con oltre 100 sacerdoti giovani della nostra Diocesi di Milano. E ha pronunciato nelle sue meditazioni e omelie parole molto importanti, anche sul momento che stiamo vivendo, non facile. E quindi ve ne proponiamo qualche tema. Vediamo. Il Ministero del Prete, che nella sua estrema essenzialità, talvolta fatta anche di un'ordinarietà ripetitiva, è invece aprirsi allo straordinario, con un cuore dilatato, sull'esempio del Santo Curato d'Ars. Le parole del Cardinale Tettamanzi rimbalzano dalla Francia profonda, dove sono state pronunciate, nella Basilica dedicata appunto a San Giovanni Maria Viannè, che dei parroci di tutto il mondo è il patrono. Ed è chiaro che la meditazione dell'Arcivescovo di Milano, Pellegrino, con oltre 100 giovani sacerdoti della Diocesi, assume un rilievo del tutto particolare in questo momento, di prove di sofferenza per l'intera Chiesa e per Benedetto XVI, per il quale, nel giorno del quinto anniversario della sua elezione a Pontefice, il Cardinale, insieme ai preti ambrosiani dell'ISMI ordinati negli ultimi cinque anni, aveva pregato nel primo giorno del loro viaggio compiuto sulle orme del Santo Curato d'Ars e del beato Padre Antonio Chavrier, fondatore dei Preti del Prado, maestro di carità. Preti santi, con un carisma che affascina senza tempo, loro sì davvero straordinari, ma con un'identità di base, vorremmo dire, sacerdotale, che è o dovrebbe essere di ognuno. Da qui la riflessione senza mezzi termini dell'Arcivescovo. Il prete deve assolutamente essere un uomo affidabile, perché rispetta chi lo avvicina, custodisce ciò che ascolta, non approfitta della sua posizione e della fiducia che viene riposta in lui. Solo se i giovani sentono che il prete è un uomo che non approfitta della sua autorità, che non viola i limiti del suo ufficio, allora sapranno aprire il cuore e l'anima, dice ancora l'Arcivescovo. Chiaro e forte, d'altra parte, il messaggio che Tettamanzi ha voluto imprimere in queste espressioni. Oggi tutto questo passa anche da un'assunzione, umile e penitente, degli scandali che hanno segnato la Chiesa, sottolinea, senza nasconderli e senza nascondersi, con una trasparenza umile e piena di fiducia. Ancora in studio per una segnalazione che riguarda proprio l'Arcivescovo. Infatti, lunedì 26 aprile e martedì 27, il Cardinale sarà presso la Villa Sacro Cuore di Triugio, provincia Monza-Brianza, per il Consiglio Presbiterale Diocesano. Tutti gli approfondimenti, come sempre, sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it Siamo giunti ora alla conclusione della prima parte del nostro programma. Torneremo insieme proprio col portale della Diocesi. Ne parliamo tanto, spesso, ebbene ne scopriremo una sezione tutta nuova. Ora due minuti di pubblicità. Restate con noi. Ben ritrovati. Andiamo ora nella comunicazione multimediale. Ne parleremo tanto anche nella prossima puntata di Domenica Aventura, ma non vi rivelo ancora niente. Dopo ne parleremo. Per ora, il portale della Diocesi. Claudio Mazza, direttore del portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it. Da questa settimana, con il portale e attraverso il portale, si può anche pregare? Si può pregare sempre, anche senza il portale. Però diciamo che sulla home page del portale abbiamo rifatto graficamente il nostro grafico Rinaldo, che è un esperto di grafica di internet, ha rifatto praticamente la pulsantiera. Cosa si intende per pulsantiera? Abbiamo esplicitato sotto la testata Chiesa di Milano quello che prima era raccolto sotto una voce al manacco. E lì c'è il santo del giorno, legge il Vangelo del giorno, ascolta il Vangelo del giorno, anche perché abbiamo molti non vedenti che ci chiedono di poterlo ascoltare. Quindi ci sono tutte le celebrazioni. Cioè è un sussidio per scaricare i testi, per facilitare la celebrazione di turcico, seguire la celebrazione di turcico giornaliere, ma anche per una meditazione, una riflessione personale. Molti di questi nostri utenti ci hanno richiesto poi di scaricarlo in MP3, sulla iPod, quindi abbiamo facilitato il tutto. Come potete vedere, ecco, sotto la testata Chiesa di Milano dalla home page, c'è una pulsantiera nuova che prima era tutta raggruppata in un'unica voce al manacco e quindi era più difficile andare a consultare. Adesso invece la consultazione è molto immediata. Quindi cliccando la prima voce si ripete di nuovo una pulsantiera per andare alle voci successive senza essere obbligati poi a ritornare sulla home page. E qui troviamo la preghiera del pensiero del giorno, la preghiera dei fedeli, che viene fatta dai seminaristi di Venegono, ascolta il Vangelo, le letture di rito ambrosiano, le letture di rito romano. Ecco, perché anche il rito romano? Perché in Aliasi Milano ci sono tre zone abbastanza ampie, il decanato di Treviglio, il decanato di Trezzo e il decanato di Monza, che seguono per antica tradizione e antica consuetudine il rito romano, più altre parrocchie sparse in diocesi. Dopodiché c'è il santo del giorno e poi c'è il cerca nell'almanacco. Ad esempio, qui siamo nel santo del giorno, ecco, ci sono nella pulsantiera anche per i poco vedenti, diciamo, abbiamo fatto l'ingrandimento del carattere e con lo scrollo il testo, praticamente senza muoversi, noi possiamo portare il testo come una lettura molto facilitata. Ecco, l'ascolto del Vangelo è molto semplice perché come uno clicca l'ascolto del Vangelo parte subito il commento, come potete sentire. Ecco, in ogni pagina che viene cliccata c'è riportata la pulsantiera per facilitare il passaggio da un testo all'altro e dalle preghiere al santo, alla liturgia, al rito. Ecco, quindi questo è per facilitare il conto dei fedeli. Abbiamo visto che molta gente si collega con il portale tra le 6 e le 8 del mattino prima di andare al lavoro. Noi avendo fatto una programmazione alle 8 del mattino, sono arrivate nel giro di un giorno almeno 10 o 12 lettere in cui ci chiedevano di anticipare alle 6 la messa in rete sul portale. Insomma, i fedeli ambrosiani sono mattinieri? Sono fedeli e mattinieri. E adesso una segnalazione che ci pare molto importante anche per il momento che stiamo vivendo. Infatti si terranno da giovedì 29 aprile al 30 aprile le veglie di preghiera per i lavoratori e inizierà proprio la veglia di Busto Arsizio nella zona industriale via Baden-Powell al 9 per la zona pastorale quarta alle ore 20 e 30, ricordo giovedì 29 aprile. Mentre per tutte le altre 6 zone pastorali della diocesi si terranno, presiedute dai singoli vicari di zona, nelle città di Milano, di Varese, di Erba, di Vimercate, San Donato Milanese e Paderno Dugnano. Veglie per il lavoro. Tutti gli approfondimenti su www.chiesadimilano.it E ora la consueta rubrica delle novità, libraria con Luca Frigeri. Sulla guerra di liberazione in Italia fra il 1943 e il 1945 è stato detto e scritto molto. Eppure ci sono delle pagine ancora poco conosciute da indagare o a cui dare soprattutto il giusto valore. È il caso ad esempio del ruolo delle donne nella resistenza, un tema a cui oggi è dedicato questo interessante volume pubblicato dalla Cooperativa in Dialogo. Il libro raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla Fondazione Ambrosianeum in collaborazione con l'Azione Cattolica. Studi e testimonianze di un fenomeno in qualche modo rimosso e pure significativo. Donne, giovani, madri che contribuirono alla lotta contro il nazifascismo, facendo da staffette, occupandosi dell'assistenza dei partigiani, perfino partecipando attivamente agli scontri. Una ventina di loro, finita la guerra, entrerà nel Parlamento della Repubblica, segnando l'inizio di un nuovo impegno politico. In questa vicenda resistenziale al femminile, un posto fondamentale è occupato dalle religiose, che hanno contribuito a salvare tanti, fra perseguitati, ebrei, rifugiati, deportati. Eppure il loro ruolo è stato pressoché ignorato e dimenticato. Ecco perché questo secondo libro di In Dialogo è particolarmente importante, forse unico nel panorama della storiografia della Seconda Guerra Mondiale. Nei diversi interventi vengono ricordati i tanti non violenti atti di coraggio delle religiose italiane, divenute di volta in volta soccorritrici, infermiere, sostenitrice delle attività clandestine della resistenza. E non in modo sporadico o con singole azioni di carità, ma come partecipazione consapevole a una liberazione collettiva e necessaria per il nostro paese. Barocco è un termine che significa irregolare, diseguale, bizzarro, e infatti l'arte barocca non incontra forse la nostra sensibilità moderna. Eppure non cessa di affascinarci, come dimostrano le immagini presentate in una bella mostra a Brescia, e di cui questo è il ricco catalogo, immagini che arrivano da paesi come il Messico e il Guatemala, quindi dall'America Latina. La mostra infatti presenta per la prima volta in Italia un centinaio fra i maggiori capolavori dell'arte barocca latino-americana, analizzando i suoi sviluppi attraverso i vari temi dell'iconografia sacra e della pittura decorativa, dalle esuberanti immagini mariane al culto di Santi come Giacomo e Giuseppe, alle molte rappresentazioni della veneratissima Vergine di Guadalupe. Un'arte ingenua eppure appassionata, colma di colori come di fede semplice e vissuta. Siamo ora, come sempre, al momento della parola di Dio, in questa quarta domenica di Pasqua, e poi un breve commento. Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli, «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando. Che vi amiate gli uni gli altri. Questa è una pagina di Vangelo molto impegnativa. Siamo nel cuore del grande discorso eucaristico di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Siamo quindi nel testo che è un po' la sintesi della teologia dell'Evangelista e siamo proprio al confronto con questa parola. Questa parola che per Giovanni, ma non soltanto per Giovanni, riassume tutto il senso del Vangelo, amore. Amore è una parola che in realtà traduce il testo greco di Agape, è un termine che si può riferire anche al banchetto, oltre che appunto all'amore disinteressato, all'amore di Gesù. Quindi è qualcosa che ci dà subito l'elemento della concretezza. Una concretezza di qualcosa che viene qui adesso, una concretezza che permette anche di superare quelle che sono le apparenti contrapposizioni di questo testo. Da una parte è vero c'è il comandamento, però il contenuto del comandamento è l'amore stesso. È vero c'è la ricerca della gioia, però la strada per arrivare a questa gioia è appunto l'amore. C'è il dovere, la capacità di dare la vita, di dare l'anima, addirittura come scrive il testo greco, per gli altri, ma anche questa passa attraverso l'amore. L'amore è la parola conclusiva, è la parola riassuntiva di questo percorso. Ma per arrivare alla pienezza dell'amore bisogna che avvenga qualcosa. Ecco c'è questo aspetto diremmo drammatico di questa pagina, che è apparentemente una pagina di concetti, una pagina dove nulla accade, però qualcosa accade. Quello che accade è che Gesù sceglie i discepoli. Io vi ho scelto, non siete voi che avete scelto me. Io credo che questo atto dello scegliere, questo abbraccio che include e non esclude, sia davvero quello che ancora oggi, ancora per noi cristiani di questi anni, meglio di ogni altro rappresenta questo mistero della parola amore. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma, ma c'è ancora tempo per un aggiornamento sul Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro. Siamo giunti alla cifra di 7 milioni 900 mila euro. Siamo vicinissimi agli 8 milioni. Il modo per contribuire lo state vedendo. Cerchiamo di arrivarci e di superarli anche, speriamo. Ma proprio a proposito del Fondo vogliamo segnalarvi un evento che merita certamente tutta la nostra e la vostra attenzione. Infatti giovedì 29 aprile alle ore 20 e 30 nel Duomo di Milano si terrà una serata eccezionale manzoniana con Giorgio Albertazzi che leggerà brani dei Promessi Sposi. Serata che sarà a favore proprio del Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro e che è intitolata, sarà intitolata Fede, Speranza e Carità. Bene, speriamo che molti di voi possano partecipare. Vi avevo detto durante il corso della puntata che ci saremo occupati nell'appuntamento di domenica prossima molto di comunicazione multimediale. Infatti siamo appena tornati noi della Chiesa nella Città da Roma dove si è svolto il grande convegno nazionale della Conferenza Episcopale Italiana dedicata a testimoni digitali, la comunicazione nell'epoca crossmediale cioè i nuovi mezzi di comunicazione, quelli che si chiamano i new media ma scopriremo tutti insieme domenica prossima che cosa significa. Ora è davvero tutto, il mio saluto più caro davvero a ognuno di voi la Chiesa nella Città torna giovedì alle 18.45. Buon proseguimento con i programmi di Telenove e Telenove 2. Arrivederci, ciao. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS a cura di QTSS a cura di QTSS